Nuovo colpo di scena nella intricata telenovela della sanità pubblica molisana. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della Regione contro il blocco dei tagli e gli ospedali di Venafro e Larino. Il Consiglio di Stato ha deciso sugli appelli proposti dalla Regione e dal Commissario ad Acta contro le sentenze del Tar Molise con cui erano stati accolti i ricorsi del Comitato Santissimo Rosario e del Comitato Civico Frentano sui piani operativi ultimi adottati, parliamo l'ultimo del 2014. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Commissario ad Acta non poteva chiudere l'ospedale di Venafro e non poteva chiudere l'ospedale di Larino, ha ribadito che i comitati possono fare ricorso perché nell'appello si era anche provato a smontare la legittimazione dei comitati ma soprattutto stabilendo la competenza del Consiglio regionale il Consiglio di Stato ha fornito un ulteriore strumento ai consiglieri di questa Regione noi abbiamo sempre detto che i ricorsi non erano la soluzione definitiva ma dovevano fornire degli strumenti a chi può decidere per decidere in favore del territorio ecco il Consiglio di Stato ha ribadito che i consiglieri regionali del Molise se vogliono, sono 21, 20 più il Presidente, possono garantire le posizioni dei cittadini di Venafro e dei cittadini di Larino. Nei mesi scorsi con un blitz notturno hanno abrogato una disposizione legislativa regionale del 2008 che blindava le posizioni dell'ospedale di Venafro e dell'ospedale di Larino oggi il Consiglio di Stato ha praticamente sostenuto che se vogliono possono ripristinare quella posizione, se ci tengono a tutelare il territorio. Ma la vicenda non si chiude qui, infatti il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni relative al primo piano operativo, oggi c'era un altro che ribadisce i tagli e per questo la palla passa di nuovo al Tarmolise che a fine aprile esaminerà un nuovo ricorso dei comitati contro la ristrutturazione arbitraria del Vietri di Larino. Come Comitato Civico Frentano abbiamo proposto un nuovo ricorso anche contro il nuovo piano operativo di fine 2016 il ricorso è fissato per il 27 aprile dinanzi al TAR per il merito in quella sede che non a caso era stata fissata a fine aprile poiché si attendeva questa sentenza del Consiglio di Stato dovremo valutare l'incidenza di questa sentenza sui nuovi piani in particolare, noi poi in quella sede insistiamo ancora una volta sulla salvaguardia del diritto alla salute dei molisani perché oggi, lo vediamo anche sulla vicenda neurochirurgia di Campobasso il problema è un problema che va molto oltre anche il Vietri e il Santissimo Rosario.